I grandi temi dell'economia non viaggiano da soli. Sono tutti elementi di un sistema più ampio, dove cause ed effetti si incrociano e sommano tra loro, con il risultato di creare il mondo in cui viviamo oggi e in cui vivremo domani. Io sono Silvia Boccardi e sarò la voce di Dinamiche, un podcast di Cassa Depositi e Presciti e Cora Media. Guarderemo nella direzione in cui si muove la società in risposta ai cambiamenti che avvengono ogni giorno al suo interno. Ci occuperemo di tutti i temi che modellano il nostro presente e che saranno all'origine dei mutamenti del futuro, dal cambiamento climatico alla crisi delle materie prime, dall'innovazione alla vita nelle smart cities, per capire qualcosa di più del mondo in cui viviamo.